Kate Middleton è stata vista con William vicino alla sua casa a la principessa del Galles, 42 anni, avrebbe fatto visita al Windsor Farm Shop, che si trova a circa un km e mezzo dalla sua residenza di Adelaide Cottage, secondo la principessa del Galles, 42 anni, il giornale ha riportato le parole di chi ha visto la principessa che sembrava felice, rilassata e in sala. La coppia reale secondo il The Sun avrebbe poi trascorso il sabato mattina seguendo i figli in alcune loro attività sportive i tre, George, 10 anni, la principessa Charlotte, 8, la coppia reale secondo il The Sun avrebbe poi trascorso il sabato mattina seguendo i figli in alcune loro attività sportive. Quest'uscita rappresenta la prima uscita dopo l'operazione all'addome del 16. Solo il 4 marzo era stata vista in auto con la madre, Carol Middleton, mentre la settimana successiva lei e William, 41 anni, erano stati fotografati mentre uscita solo il 4 marzo era stata vista in auto con la madre. Per il momento non ci sono verità assolute dietro quanto accaduto a Kate Middleton e le sue attuali condizioni di salute ma, tra le tante supposizioni di questi giorni, ne è appena immersa una nuova Per il momento non ci sono verità assolute dietro quanto di cosa si tratta? Di un'operazione chirurgica molto complessa nella quale viene creata un'apertura sull'addome che serve per eliminare le feci mediante l'uso di un sacchetto esterno